Lo ribadisco in questa sede, sì ai vaccini, no alle costrizioni, no agli obblighi. In un paese culturalmente evoluto il sistema richiede consenso, richiede campagne efficaci di promozione alla vaccinazione, richiede la capacità del sistema di recuperare credibilità. Se, come dicono, questa credibilità è stata persa in questi anni a causa di una mala gestione della politica rispetto al tema della prevenzione. Questo tema, oltretutto, non riguarda solo la politica, ma riguarda anche il rapporto operatore-sanitario-paziente, riguarda il rapporto medico-paziente, riguarda quindi un rapporto di fiducia. Quando arrivano le guardie, quando arrivano i carabinieri per impostare una terapia, io credo che la terapia abbia fatto la fine più drammatica che ci si potesse immaginare. Il rapporto deve essere fiduciario, non può essere imposto. Ecco, questo è un aspetto assolutamente poco chiaro anche nella proposta di legge. Come intendono attuarla? Se un bambino che è già al secondo o terzo anno della scuola dell'infanzia non ha fatto le vaccinazioni, che cosa dovrà fare il direttore dell'asilo? Dovrà chiamare i carabinieri per non farlo entrare, per pretendere la certificazione. Verrà sottoposto la famiglia come nei tempi più bui di una sorta di medioevo degli anni Sessanta che minacciavano di togliergli la patria potestà ai genitori che non vaccinavano. È veramente regressiva da un punto di vista culturale. La contestiamo fino in fondo e questa battaglia culturale nessuno ci fermerà da condurla fino ad utilizzare tutti gli strumenti che la democrazia ci consente di poter utilizzare.